Sì, esattamente. In poltrone sofà ci sono i doppi saldi. Fantastico. Sai cosa sono? Lo disaspo. Opera. Chiara vent'anni. Tutto troppo presto a vent'anni. Ma una persona che hai da vesti. Insomma, a Torino, le visite va di contro, si riapre il tormentone Pogba. Raiola sarebbe a Manchester per trattare con lo United, mentre Guardiola insiste per portare al Manchester City Bonucci per 60 milioni. Primo piano. Tutto e subito emerge una spiegazione che continua l'invio del nero su bianco per la cessione del Milan. Magliani ieri ha incontrato Berlusconi ad Arcole. L'attesa per la firma sul contratto preliminare nasconde la volontà del consorzio cinese di acquistire da subito il 100% della società rossonera. Appuntamento dunque a fine luglio.